Ieri mattina i poliziotti della sezione volanti, su richiesta pervenuta su linea di emergenza 113, sono intervenuti in un ufficio postale del centro storico del capoluogo per una lite in corso tra una cliente ed una impiegata. Giunti presso l'ufficio postale, sentite le ragioni della lite, gli agenti ricostruivano i motivi del contendere. La cliente, nel corso della mattinata, si era recata presso l'ufficio postale per sottoporre all'attenzione dell'impiegata una banconota da 50 euro che sosteneva fosse stata prelevata dal bancomat di quell'ufficio dal proprio figlio la sera precedente e che la donna riteneva potesse essere falsa. I poliziotti, dopo aver sentito la versione del responsabile dell'ufficio postale che escludeva la possibilità che una banconota falsa fosse stata distribuita dal bancomat, conducevano la donna in questura. Presso gli uffici di polizia la donna cambiava versione dichiarando che in effetti il suo figlio la sera precedente aveva ricevuto la banconota da parte di una persona sconosciuta scambiandola con due banconote da 20 ed una da 10 euro e che il tentativo fatto presso l'ufficio postale serviva a liberarsi di quella banconota falsa. In ragione di ciò la donna aveva simulato la lite con l'impiegata dell'ufficio postale cercando di attribuire a quest'ultima e all'ufficio postale la responsabilità dell'emissione della banconota falsa sostituendola tra la prima e la seconda visita. Madre e figlio sono stati denunciati in stato di libertà per spendita di monete false e la banconota è stata sequestrata.